è il camera o non è il camera? la mia mano andrà su youtube no 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 ha un taglio aereo ,, si muove la testa si muove la testa anche questo ci muove la testa anche questo andiamo in questo youtube andiamo così e fermiamo in questo video adesso lo mettiamo su Grazie a tutti.